I giudici della prima sezione penale del Tribunale di Agrigento, preseduta da Alfonso Malato, hanno scarcerato l'ex sindaco di San Biagio Platani, Santino Sabella, arrestato nell'ambito della maxinchiesta antimafia denominata Montagna il 22 gennaio del 2018 con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Il collegio, come chiesto nei giorni scorsi dai suoi legali, gli avvocati Nino Gazziano e Nino Mormino, gli ha applicato il divieto di dimora in provincia di Agrigento. Sabella, in particolare, è accusato di aver stretto un patto con il boss del Paese, Giuseppe Nugara, che gli avrebbe garantito sostegno elettorale alle amministrative del 2014, quando fu eletto sindaco in cambio di appalti e posti di lavoro per uomini a lui vicini. I suoi legali hanno sostenuto che le esigenze cautelari fossero attenuate dal decorso del tempo, sono passati due anni, e dalla circostanza che il dibattimento è ormai agli sgoccioli, almeno per quanto riguarda la posizione di Sabella. L'ex sindaco di San Biagio Platani è stato rinviato a giudizio nel dicembre del 2018, così come altri cinque imputati. Gli altri 52 hanno chiesto invece il giudizio abbreviato. Intanto il comune di San Biagio Platani è stato sciolto per mafia ed amministrato da tre commissari prefettizi. Gli altri 54 Grazie.